Buongiorno e ben ritrovati con l'informazione locale di Canale 81 Lazio. Vediamo le ultime notizie che arrivano dalla regione e dal territorio. Partiamo dalla cronaca dove stanotte sulla Litorania, la strada che va da Ostianzio, si è consumata una vera e propria tragedia. C'è stato un sinistro in cui la dinamica è ancora al vaglio dei carabinieri e dove hanno perso la vita due ragazze di appena 20 anni che si trovavano a bordo della stessa auto. L'incidente si è verificato a luna di notte circa e sul posto sono intervenuti in tempi irrapidi i vigili del fuoco, i sanitari del 118 e i carabinieri del nucleo radiomobile. La situazione apparsa subito gravissima agli occhi dei soccorritori e per le due giovani non c'è stato niente da fare. Le salme delle due ragazze sono state portate all'Istituto di Medicina Legale di Tor Vergata a Roma e l'auto è stata posta sotto sequestro. Sempre cronaca, è sempre un incidente stradale mortale che però è avvenuto in provincia di Terni ma che riguarda un 34enne originario di Alatri. Il fatto è successo nel tardo pomeriggio di ieri del 30 novembre nei pressi dello svincolo per la E45. Si era creata una coda per un altro incidente stradale. L'uomo, che era alla guida del furgone, è sceso dal veicolo per controllarne il guasto ma è stato travolto dal suo mezzo che a sua volta era stato tamponato da un'altra autovettura. Il violento impatto ha provocato la proiezione del corpo della vittima nella carreggiata opposta dove è stato travolto da un altro veicolo in transito e ha perso la vita. Le indagini sono condotte dalla Polizia Stradale di Terni coordinata anche dalla Procura della Repubblica. Anche su originario di Alatri, come detto, il 34enne viveva da tempo a Terni. Andiamo a Latina e parliamo del caso delle cooperative Caribù e AID. È stata proposta la liquidazione coat e lo scioglimento per entrambe. Sono le due proposte che sono state avanzate dal ministro delle imprese del Made in Italy rispettivamente per la cooperativa Caribù e per l'AID di Latina. Entrambe sono finite al centro di una ricente inchiesta giudiziaria che vede indagata la presidente Marie-Thérèse Mucamizindo. A spiegarlo è stato il ministro Adolfo Urso che ha risposto a un'interrogazione parlamentare sul caso sollevata da diversi parlamentari di Fratelli d'Italia. Proprio nei giorni scorsi le sede delle due cop sono state visitate dagli ispettori del ministero che hanno acquisito la documentazione necessaria ad analizzare il caso. Per quanto riguarda la cooperativa Caribù, ha specificato il ministro, ieri si è conclusa l'istruttoria culminata con la proposta di messa in liquidazione coatta amministrativa per eccessivo indebitamento e mi è presto a nominare i commissari liquidatori. Ci spostiamo a Roma dove il 90% dei canoni versati per il trimestre gennaio-marzo 2022 verranno restituiti alle associazioni sportive dilettantistiche. E questa è la misura che è stata approvata in Commissione Sport e su cui è convenuta tutta l'Aula Giulio Cesare. Con la delibera che stanzia 200.000 euro per la riduzione delle canone dei centri sportivi municipali, diamo un aiuto importante ai gestori virtuosi fortemente penalizzati dalla pandemia. Allo stesso tempo sosteniamo la pratica dello sport di base che è fondamentale per la promozione di uno stile di vita sano e per l'integrazione sociale. Ha detto l'assessore capitolino allo sport, grandi eventi, turismo e moda, Alessandro Onorato. Nel territorio pontino, dove alcuni comuni, a partire da Latina stessa, sono oggetto di lavori definiti urgenti e improcrastinabili da parte del gestore Acqua Latina che saranno effettuati su una condotta adottrice proveniente dalla centrale di Sardellane. Per consentire gli interventi quindi nei comuni di Latina, Pontigna, Sabatia, San Felice e Circeo, Sezio e Terracina è stata programmata un'interruzione idrica a partire dalle 18 di giovedì 1 dicembre. Il totale ripristino del servizio farà sapere ancora la società, è previsto per le prime ore della mattina di venerdì 2 dicembre. Infine ci spostiamo a Viterbo, dove gli atleti della Tuscia Dance Academy di Viterbo andranno ad Atene dal 1 al 3 dicembre per i campionati del mondo di Interlatin World Championship. L'importante convocazione da parte della Fizia è arrivata a seguito dell'ottimo piazzamento al campionato italiano 2022 tenutosi a Catania. Gli atleti si esibiranno nella disciplina di Synchro Latin Style Adult Group. La squadra Tuscia Team è composta da Giulia Natale, Azzurra Spagna, Andrea Marchetti, Sara Marsiglioni e Andrea Delimirani. Era anche la nostra ultima notizia, vi ringraziamo per averci seguito e vi lasciamo alla programmazione di Canale 81 Lazio.